Sì, lo so, lo so che la competizione sarà difficile. Potete immaginare? Una persona scelta da un milione in tutto il mondo. Ma spendo tempo per questa applicazione video, perché credo veramente che ho qualcosa di più di tutti gli altri competenti. Poi, seguimi per alcuni secondi e ti convinceremo, sicuramente. Sono un bravo e un eccellente swimmer, da quando ero un bambino e probabilmente avrei scoperto il 75% di Quinsale Island. Non sarò solo, in effetti, sarò supportato da un'eccellente squadra. Il video specialist, il consultorio di faccia, il specialist di alimentazione e di alimentazione. Sono un esperto in biologia marina, e potrei scoprire una nuova specie, per essere aggiornata ai 1.500 tipi di pesce che sono conosciuti. Avete visto? Non c'è una razza di non essere scoperto come D1. Vieni, sono pronti! Grazie a tutti!